Siccome stanno pompando questa offerta di pack gratis anche su ETF, una volta erano i fondi, adesso le banche cercano di cavalcare qual è la giusta moda del momento, perché sono degli migliori strumenti su cui investire. Perché vi propongono continuamente questi pack? Che cosa sono? Sapete tutti cosa sono? Seguite questo canale, i piani di accumulo del capitale. I pack possono sembrare un ottimo strumento di investimento perché tu ogni mese prendi una parte dei tuoi soldi o del tuo stipendio e lo investi e col tempo l'investimento, l'economia globale o americana, non tutti gli asset sono sempre cresciuti, sono andati in alto. Io adesso vi faccio subito una carrellata di esempi per la quale non mi piace, non ho mai investito in pack, io l'ho fatto in manualmente, che mi piace molto più farlo manualmente il pack. Quando ci sono i grossi cali, purtroppo le grandi tragedie che coinvolgono il mondo, che fanno calare gli indici, lì sì che si fanno occasioni, non comprando alto. Perché quando voi, come sono molti più giorni che i mercati salgono di quelli che scendono, voi facendo i pack un sacco di volte comprate alto. Io non è che mi voglio vantare che i miei portafogli, anche quando è calato un mese, erano quasi tutti ancora in verde, tranne uno, due, perché c'è una grossa distribuzione di dividendi. Però insomma, quello che vi voglio dire è che non vi permette questo strumento di investimento di cogliere le opportunità, che sono anche una cosa importante per chi investe. Allora, voi in questo periodo, un mese fa, anche tre mesi fa, quando c'era l'SP500 che era calato a 3500 punti, avreste investito in petroliferi energetici, un ETF come l'MLPD, un pack su quello? No, perché l'avreste pagato alto, è pericoloso adesso fare un pack sugli energetici. Non perché non possono crescere ancora, ma perché sono saliti, ci può essere una nuova rotazione, come spesso ci sono nei mercati finanziari le rotazioni. Era bene investire magari nelle banche europee un mese fa? Era bene investire nell'azionario globale, i vari TDIV, GLDV, WHYL, quando l'SP era sceso abbastanza. Secondo voi, quando c'è stato con questo dollaro forte, un calo concomitante dell'SP500, avete comprato così tanto azionario USA, anche se è il migliore investimento del mondo, ragazzi, se può fare più 14, se il dollaro fa meno 10, non è un problema. Però insomma, è un buon momento secondo voi per comprare soltanto azionario USA, fare un pack su questo strumento? Anche adesso che il dollaro è ancora forte. Poi ci sono dei casi simpatici che c'è qualcuno che mi scrive che è un po' disordinato a risparmiare. Beh, lì, chi è un grande investitore deve essere anche un buon, avere un ottimo money management, quello dovete organizzarvi. Casomai aprite un conto che non toccate e cui rinvestite manualmente, che è un modo più intelligente e così siete costretti. Fate un risparmio fruzzoso e poi avete un altro conto corrente, come faccio io, che potete spendervi tutto quello che vi entra, tra dividendi e stipendio. In questa strategia del pack manuale i dividendi aiutano, aiutano molto, perché si ammucchiano, si ammucchiano. Io non avevo investito per mesi, anzi avevo venduto qualcosina, perché quando ti crescono anche devi gestire le tue posizioni. I dividendi aiutano, si fanno là, poi bang, scoppia una guerra, una pandemia, giù i mercati e lì, lì purtroppo è brutto a dirsi, ma fanno così gli investitori navigati e iniziano piano piano a comprare, perché magari possono scendere ancora, ma si sta comprando più in basso, quello che non vi permettere di fare il pack. Non ho molto altro da aggiungere, vi ho fatto la mia, vi ho detto la mia carrellata di investimenti, se avete domande fatemele sotto il video, potete anche dirmi la vostra se non siete d'accordo. Non vi metto nessun refer di queste banche che offrono questi pack gratuiti, perché tra l'altro vi dico che da quando ci stanno i tassi positivi in certi paesi, i conti correnti, io ci ho vissuto, dove c'erano già i tassi positivi, i conti correnti dovrebbero avere pure un po' di interessi positivi, qualche spiccetto sul conto, mentre in Italia questo non ci arriva, quindi hanno altri margini di guadagno le banche. Va bene, alla prossima ragazzi, fatemi sapere. Grazie.